Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presono Studio One ed Acustica Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, oggi guardiamo alla nuovissima evoluzione di Ash di Acustica Audio che avete già visto, recensito su questo canale dove ho preparato appunto un tutorial relativo anche al clipping, quindi chi non sa cosa sia il clipping e come venga utilizzato nelle fasi di mastering vi invito a riguardare il video su Ash. Oggi ci occupiamo di Ash Ultra, quindi un'evoluzione del precedente concept con l'aggiunta e la variazione di alcune piccole se non importantissime caratteristiche. Come molti sanno la grande grande differenza tra un convertitore outboard che si occupa appunto anche delle fasi di clipping e un software è normalmente e oggettivamente racchiuso nell'ambito dell'anti-aliasing e quindi quella fastidiosa enfatizzazione e modifica delle frequenze alte ed altissime che si avverte appunto a causa di una manipolazione attraverso i plugin. Anche se Ash lo fa in maniera estremamente accurata nella nuova evoluzione Ash Ultra, questo problema sembra essere stato risolto in maniera assolutamente inedita per qualsiasi plugin di clipping, rialzando ancora di più l'asticella appunto della qualità relativa a questo genere di applicazioni. Ash Ultra come vediamo ha la grafica, quindi l'aspetto grafico che abbiamo già visto in Pumpkin, eccolo qui di acustica audio sempre, che utilizzo poi in altre situazioni ma in questo caso in una fase di mastering l'ho utilizzato per enfatizzare ancora di più la distorsione armonica del brano e renderlo un po' più tridimensionale. Sentiremo appunto gli effetti con essenza appunto Pumpkin all'interno. Vi ricordo che Pumpkin è gratuito ed è scaricabile sempre da Aquarius Desktop. Chi non ha mai utilizzato i plugin di acustica audio il mio consiglio è quello di scaricare Aquarius, creare un account ovviamente, e installare tutta la suite di plugin gratuiti che offre Aquarius, tra cui appunto Pumpkin. Passiamo ora ad Ash Ultra. Quali sono le differenze grandissime relative a questo upgrade? Vi ricordo che l'upgrade è gratuito per i possessori di Ash. È sì, un plugin separato ma facendo parte della stessa famiglia di Ash, chi possiede già Ash può già scaricare Ash Ultra e provarlo in comparazione. Le emulazioni sono rimaste le stesse che troviamo anche in Ash, quindi il grosso del cambiamento avviene sotto nella parte appunto importante della gestione del software. Per prima cosa questa volta troviamo un nuovo dithering inserito all'interno, quindi possiamo utilizzare il dither di Ash che è una nuovissima evoluzione software inedita che troveremo poi anche in altri plugin ed è la qualità di questa emulazione di dithering è estremamente alta rispetto a quelle che troviamo sia nella Dove sia in altri plugin come ad esempio anche in Vice. In questo caso possiamo utilizzare otto famiglie di dithering, lo vedremo poi anche spiegato meglio in un prossimo video che sto facendo sul convertitore esterno della Ferroficial A32 Pro e possiamo scegliere appunto i vari livelli di dithering e appunto algoritmi di smoothing. Qui a fianco troviamo i bit che fanno riferimento al dithering, quindi questi bit sono quelli che poi ci occorrono per la selezione appunto del dithering qui al lato. Gli altri parametri sono rimasti gli stessi, quindi post clip e il soft e hard e ovviamente la possibilità di lavorare più sul mid o più sul side. Questo è importante perché è una delle grandi differenze tra i due hash. Poi troviamo appunto la manopola di incremento della distorsione armonica, quindi del clipping, l'input e l'output, il pulsantino meno uno per poter appunto scendere di un db in uscita per chi volesse proprio ripararsi da tutti i true peak esistenti e la possibilità di lavorare in oversampling. Come vedete io lavoro spesso a 32, ma anche già a 16 per il risultato è super eccellente. Ovviamente tutte le altre modalità richiedono un processing offline perché appunto già anche un M1 Ultra soffre tantissimo lavorando a 64 per, figuriamoci a 256, però sono modalità che possono essere utilizzate in offline, in esportazione. L'altra grande novità è che abbiamo appunto un metering qui, andiamo in play tenendo basso il volume e quindi vediamo il metering di intervento e sotto la rappresentazione grafica dei picchi e degli interventi appunto sui picchi relativi alla song, quindi quelli che poi effettivamente vengono aumentati parecchio di contenuto armonico, quindi l'intervento appunto del nostro clipper. Sotto la funzione 4x qualora volessimo incrementare velocemente di quattro volte l'intervento della manopola se non fosse necessaria e l'auto gain che non uso perché non amo questo genere di applicazione, ma è utile per sentire appunto il livello di intervento del clipping senza avvertire il livello di uscita del volume. Poi abbiamo i meters relativi al rms e il picco e qualora volessimo passare nella visualizzazione dei meters lufs cliccando qui vengono mostrati nella parte sottostante. Andiamo a sentire cosa effettivamente fa. Come vi dicevo la grossa differenza che si avvertirà è proprio nell'utilizzo di questa funzione midside perché ora l'algoritmo di anti-aliasing che applica hash è estremamente più evoluto rispetto a quello di hash standard che era già ottimo e stiamo parlando di un livello di qualità che non esiste ancora negli altri plugin di clipping. Questo comporta un cambiamento che adesso ascolteremo all'interno di questa traccia che ho da poco arrangiato dove appunto normalmente applicando hash sono costretto a muovermi più sull'intervento del side perché l'anti-aliasing coinvolgendo il segnale stereo lo destabilizza leggermente. Questo è un fattore che normalmente può essere compensato come vediamo ma che fa la grossa differenza tra i clipper all'interno dell'immagine stereo. Chi ovviamente emissa più edm o dance o brani più monofonici questo fattore diciamo diventa quasi irrilevante però chi lavora nel pop lavora sui riverberi e appunto anche su cose più sinfoniche si accorge subito di questo tipo di intervento che avviene che viene attuato dal clipper infatti tanti clipper danno una sensazione più stereofonica rispetto al normale. Andiamo adesso in play e ascoltiamo appunto l'intervento che fa hash sull'immagine stereo. Facciamo caso al fatto che le chitarre una volta che hash soprattutto le chitarre perché chitarre riverberi sono molto sul side in questo caso vengono un po' penalizzate dall'utilizzo del clipper. sentiamo nello stereo bypassato quanto è più ampio e si restringe leggermente l'immagine stereo. Possiamo riguadagnare questo fattore spostandoci. mettiamo la quantità di armoniche che vengono aggiunte dal clipper. andiamo ad ora ad ascoltare la stessa identica cosa utilizzando hash ultra sentiamo che l'immagine stereo rimane stabile aumenta il contenuto armonico e l'immagine stereo rimane ferma. qui sotto ho lasciato aperto Nuggen Audio che ci mostra appunto l'intervento in loops che stiamo aggiungendo e vediamo che non cambiano ma abbiamo più percezione del sound. come vediamo facendo anche un paragone con la piattaforma di streaming, in questo caso la gc di apple. abbiamo una compensazione veramente minima. in questo caso non sto utilizzando nessun tipo di sealing proprio perché l'algoritmo di anti-aliasing è estremamente più accurato. e più professionale. purtroppo questa settimana dovrò rifare i master perché effettivamente hash ultra ha qualcosa in più che soprattutto nei brani estremamente mossi sul side necessitano di un incremento sia armonico ma che non vada ad inficiare quindi a dar fastidio alle frequenze alte date proprio dall'algoritmo di anti-aliasing. vi ricordo che è assolutamente gratuito per gli utenti di hash e chi non ha mai utilizzato un plugin di clipping vi invito ancora a riguardare il video su hash che è presente su questo canale e a pensare di utilizzarlo in maniera più concreta all'interno dei vostri brani. sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com è presente un corso relativo ai plugin, all'uso dei plugin di acustica audio dove troverete anche le lezioni relative appunto all'utilizzo di hash, del clipping e di hash ultra ovviamente che è stato aggiornato da poco. chi acquista il corso ha anche un plugin supplementare che non è possibile acquistare separatamente e lo avrà in maniera assolutamente gratuita. il mio consiglio è scaricate subito la demo e provatelo perché è qualcosa di incredibilmente efficace. per il momento è tutto, ciao a presto. spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. continuate a seguirmi su facebook, youtube e music off. non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione. se il video vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella, questo mi aiuta a far crescere il canale. per il momento è tutto, ciao a presto. grazie a tutti.